E' il quinto anno scolastico che l'iniziativa musicale viene proposta e nel tempo si è arricchita di ulteriori collaborazioni, riscuotendo il plauso dei genitori e l'entusiasmo dei bambini. E' il piccolo conservatorio, progetto ideato alla scuola primaria statale Trento Trieste di Cremona, dai professori Antonino Campisi, laureato in musicologia e diplomato in tromba, e Carolina Ferraroni, diplomata in musica sacra, canto gregoriano e direzione di coro. I bambini dalla prima alla quinta fanno tre ore di musica alla settimana, che è tanto perché di solito musica è svolta o uno o due ore a settimana. Suonano gli strumenti, in quarta e quinta, la tromba, il violino e il pianoforte, e in prima, seconda e terza si approcciano alla musica. Mentre nel triennio iniziale si lavora attraverso il movimento, il canto e il gioco, nella fase successiva si imposta lo studio dello strumento. I più grandi celli, in quarta e quinta, che hanno già cominciato a sperimentare anche la lettura delle note e lo studio proprio effettivo della musica come studiano gli adulti, possono cominciare ad approcciarsi allo strumento. Il piccolo conservatorio coinvolge attualmente 200 bambini, molti dei quali decidono poi di proseguire il percorso presso la scuola Mediacampi, opportunità formativa importante nella città della musica. Noi siamo un istituto comprensivo, l'istituto comprensivo Cremona 1, diretto dal dottor Pier Giorgio Poli, che prevede appunto una scuola media indirizzo musicale, quindi chi vuole può proseguire o lo stesso strumento o addirittura provarne a suonare un altro. Oltre alle lezioni di musica curricolari ci sono due attività opzionali pomeridiane che alla fine conducono i giovani artisti sul palcoscenico. Il coro, che collabora con la formazione Mitice Angioletti diretta da Maria Francesca Polli, e l'orchestra che si esibisce regolarmente nei mattinè presso il Museo Civico alla Ponzone. I prossimi concerti saranno il 13 e il 15 dicembre alle ore 11 con ingresso libero.